31 ottobre 2016, a Bari, l'Aguato, in via Ettore Fieramosca, Luigi Luisi, deceduto il 14 novembre, in ospedale. Fermati su disposizione della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica del Tribunale di Bari dagli agenti di polizia della locale Questura, Domenico e Gaetano Remini, Donato e Maurizio Sardella, nonché Cristian Cucumazzo. Provedimento questo sostituito dall'applicazione della misura cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale del Capoluogo Pugliese. I cinque dovranno rispondere di omicidio premeditato, porto abusivo, di armi da fuoco, in concorso ed evasione. Secondo le risultanze investigative, la vittima, tinta da numerosi colpi di arma da fuoco, sarebbe stata raggiunta da Gaetano Remini e Donato Sardella, che lo avrebbero colto di sorpresa, mentre era fermo all'interno della propria autovettura ad un semaforo di via Dante, angolo Fieramosca. I due, dopo averlo colpito mortalmente, dileguatesi velocemente a bordo di uno scooter. Con il compito di osservare i movimenti di Luigi Luisi, Maurizio Sardella, padre di Donato. Dopo i fatti di sangue, scaturita l'indagine messa in campo dalla sezione criminalità organizzata della questura mobile, che si alvalsa dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, nonché di numerose audizioni testimoniali. Accertata così la pericolosità del suo dalizio criminale operante nel quartiere Libertà, è capeggiato da Domenico Remini, vicino al clan mafioso Strisciuglio. Il movente rintracciato, un'animata discussione accesasi tra la vittima e Domenico Remini in merito al presunto coinvolgimento di quest'ultimo nell'aguato del 30 aprile del 2015, in cui a perdere la vita fu il figlio di Luigi Luisi, Antonio Di Soli, 28 anni, ucciso in un circolo privato di via Calefati dopo essersi frapposto tra i colpi di arma dei sicari e il padre rimasto in quell'occasione gravemente ferito. L'obiettivo? Luigi Luisi, ritenuto dalla DDA di Bari, ben inserito nella criminalità organizzata barese con un ruolo di comando all'interno del clan Mercante, capeggiato da Giuseppe Mercante, detto Pinuccio, il drogato. Ora gli arresti e il sequestro di alcune pistole e di numerosi proiettili.